Quando andrà in onda questo servizio il calciomercato è bello e archiviato. Adesso quindi bisogna solo pensare al calcio giocato e a quello che sarà il prossimo difficile impegno con il Bologna. Alla luce dei risultati degli altri campi nell'ultima giornata di campionato e anche in virtù degli impegni che le squadre impelagate come noi nei bassi fondi della classifica affronteranno prossimamente, crediamo che il Crotone sia in una situazione difficilissima e che ora bisogna togliere fuori gli attributi e vendere cara la pelle. Non si può più prescindere da nulla e tantomeno aver timore nei confronti di nessuno. Anche la sfortuna che in buona parte del campionato è stata avversa non può e non deve più diventare un attenuante. Noi come cronisti abbiamo il dovere di splonare i ragazzi e allo stesso modo consapevoli delle difficoltà di raccontare le emozioni e le paure che accompagnano le prossime gare. Non possiamo far finta di niente, ci siamo permessi più delle volte di celare le sconfitte perché abbiamo sempre creduto nella forza della società e della squadra, mister compreso. Ora dobbiamo dire con estrema franchezza, anche per non prendersi in giro e non prendere in giro nessuno dei nostri spettatori, che temiamo le prossime gare. Questo non ci distoglie assolutamente dalla stima nei confronti della società e dal non aver fiducia in questo mister e in questi ragazzi, a cui va tutto il nostro sostegno. Speriamo che anche i tifosi abbiano intenzione di seguire la squadra, specialmente ora che ha effettivamente bisogno di loro. È facile salire sul carro dei vincitori. In vista dei prossimi campionati italiani, la Croton Nuoto sarà presente al meeting di Viterbo con cinque dei suoi più promettenti atleti. Sono cinque gli atleti della Croton Nuoto che parteciperanno al meeting di Viterbo che si terrà nei prossimi giorni. Un appuntamento importante, ancora un traguardo raggiunto dalla Croton Nuoto. Com'è lo stato di forma dei ragazzi? Ci daranno delle soddisfazioni? Ci auguriamo di sì. Fino ad ora, già partecipare a questo meeting, consegno quindi dovrebbe aver fatto dei tempi limite, quindi questo ci fa capire che stiamo lavorando bene, stiamo sulla giusta strada. In più quest'anno alla fine della Fincalabria è deciso di mandare i migliori 16 atleti della Calabria a fare questo meeting di spessore. Siamo contenti che cinque dei nostri migliori atleti parteciperanno a questo meeting e credo che ci daranno parecchie soddisfazioni in vista già delle finali regionali di marzo e di Criteria le finali di campionati italiani di fine marzo. Comunque anche questo è un buon traguardo perché è cinque atleti su 16 in tutta la Calabria che partono da questa piscina, da questa struttura. Esatto. Questa struttura, da quando l'abbiamo aperta, questo è il terzo anno, sta permettendo a noi come dirigenti a fare una buona programmazione per quanto riguarda le attività di tutte le età, naturalmente, perché noi naturalmente iniziamo dalla scuola nuoto, da lì cerchiamo di individuare, i nostri tecnici vanno a individuare gli atleti che hanno le caratteristiche e dopo di che, con un lavoro tranquillo, lento, senza percorrere i tempi, naturalmente fanno in modo che questi atleti crescono per poi avere e raggiungere questo risultato. Questo è un risultato per noi di eccellenza perché su 16 atleti che faranno parte della rappresentativa calabrese, cinque sono crotonese, è l'unica società di crotone che partecipa, viene stata inclusa in questa rappresentativa e che per essere inclusi in questa rappresentativa devono essere atleti o che già hanno conseguiti i tempi per partecipare ai campionati nazionali oppure che sono a due decimi dal tempo limite imposto dalla Federazione Italiana Nuoto. Tempi limiti abbastanza duri. Vogliamo sapere il tuo nome e cognome e la disciplina che andrai ad affrontare a questo meeting? Io sono Torchio Stefano e sono delfinista, faccio delfino. Sei pronto? Sì, sì, mi sento pronto. Che cosa ci prometti? Spero di fare il tempo per andare agli italiani. Adesso andiamo a conoscere l'altro. Tu sei? Salvatore Amideo e il mio stile è la rana. Sei pronto? Sì, sì, sono pronto. Cercherò di fare il tempo limite nei 50 e 100 rana che è l'unica etapa che mi mancano perché nel 200 l'ho già fatto alle gare precedenti. Adesso conosciamo l'altro. Tu sei? Francesco Rota e il mio stile è il dorso. Tu sei pronto? Sì, sì. E il primo meeting che fai? No, anche due anni fa abbiamo fatto un meeting fuori la Calabria. Vogliamo passare a lei? Non chiudiamo con le donne perché altrimenti sarebbe fatta apposta. Poi c'è l'altro. Allora, tu sei? De Meo Camilla. Tu fai la farfallista? Sì, sì, faccio delfino. Che categoria? Junior's primo anno. Sei pronta? Sì, sì. Cosa ci prometti? Spero di fare il tempo per gli italiani. Ed è il primo meeting a cui partecipi? No, no, anche negli anni passati abbiamo partecipato a un meeting fuori la Calabria. L'ultimo ma non in ordine di tempo oppure lo mettiamo vicino all'Olimponico perché vorremmo che sia di buono auspicio. Io sono Nicola Elgizia e i miei miei stili sono delfine d'orso. Cosa ci prometti? Sei pronto? Eh, sì, sono pronto. Prometto il... Cioè, vorrei il tempo per gli italiani. Cioè, vorrei il tempo per gli italiani. Cioè, vorrei il tempo per gli italiani.